Troppo, mi hanno detto, non sei in campo perché se troppo alto non c'erano le vizie, che farà invece? Questa la venga a sapere adesso da te, come non avevamo detto, questo non c'era le vizie, che col pantalone corto non c'era problema, basta tagliare. No, io farò, diciamo, il contraltare al telecomatico ufficiale, insomma, ci voglio uno che ci capisce di calcio e uno che ci capisce un po' meno, come me, che magari, ecco, sottolinea altre cose che il telecomatico ufficiale non vede oppure non può dire, un po' un disturbatore, però sempre educato, nelle ricche, nei rambi, senza esattivare l'occasione, insomma. A Maradona che come sei? Io a Maradona ancora non ci credo che sto così accontato, perché per me, aver visto Maradona, guarda, dopo il popolo è la cosa più importante della sua, e quindi io spero che lui non sia rapido e dopo gli chiederò di fare una fotografia insieme, ci tengo veramente tanto, perché poi non so se mi ricapiterà, perché sono un po' lontano, ma la postazione non starò mai vicino a lui, quindi sono molto felice che ci sia. Grazie. Per fare una segnalazione, vediamo, c'è il trofeo che mi sono in palio. Grazie. Grazie. Grazie.